Nella suggestiva cornice del Museo degli Argenti di Palazzo Pitti si è conclusa la quattro giorni del meeting annuale del Great Wine Capitals con la premiazione del Best of Wine Tourism Award, premio internazionale assegnato ogni anno alle migliori strutture ricettive che si sono distinte per dettagliate specializzazioni inerenti al settore vino individuate dalle giurie delle nuove capitali. Per la Camera di Commercio di Firenze è una grande soddisfazione. La Camera di Commercio è più che soddisfatta anche perché ha investito negli anni in questo settore nell'agricoltura, nell'agricoltura specializzata, non solo nella vinicoltura ma anche nell'olivicoltura, però ecco i risultati ci sono. Non ci dimentichiamo che il vino è il prodotto principe, non solo per la nostra provincia, ma per il nostro paese. Quindi il confrontarci con le grandi eccellenze mondiali aiutano per affinare meglio l'attenzione anche verso il gusto del consumatore. Questa iniziativa è importante perché porta a Firenze le nuove capitali del vino e le porta soprattutto in uno scenario incredibile perché credo senza presunzione che nessuna delle nuove capitali possa offrire una serata come questa. Grande soddisfazione anche per i vincitori del premio. Quello che mi fa veramente felice è che questo è un premio che mi ritiene orgogliosa ma è un premio anche che serve tantissimo e ci aiuta tantissimo. Il mio lavoro è stata soprattutto una ricerca di tipo archeologico per cui abbiamo restaurato le antiche terrazze di Lamole e abbiamo riportato su queste terrazze il San Giovetto di Lamole e alla fine è venuto fuori un vino particolarmente apprezzato. È stata una bella soddisfazione, non ce l'aspettavamo, però insomma è andata e quindi siamo molto felici e sono ancora molto emozionata. Io sono molto felice, io sono molto felice e soprattutto io sono molto felice per tutti le persone che hanno lavorato, che hanno passato molto tempo con alcuni momenti difficili. Facciamo una vendita diretta, degustazioni ai turisti, scuole di cucina, tutto quello che gira attorno al vino. Quindi crediamo come imprenditori di aver fatto una cosa innovativa e siamo stati premiati. importantissimo perché sono oltre le aspettative e la proprietà dà tantissimo. È un'azienda biologica e non solo per la produzione del vino e dell'olio ma soprattutto la qualità di vita che vogliamo e che stiamo cercando di trasmettere ai nostri ospiti. Grazie a tutti.